Bella ragazzi oggi parliamo degli abbonamenti al canale che sono finalmente disponibili il primo livello che ho deciso di chiamare scagnozzo vi darà la possibilità di avere dei badge fedeltà delle emoji e di giocare in live con me secondo livello guardia aggiunge la possibilità di chiedermi di fare un video che parli del vostro canale o un video di gameplay il terzo che ho deciso di chiamare boss aggiunge la possibilità di giocare a un torneo di partecipare a questo torneo che prevede dei premi migliori rispetto a quelli che vengono assegnati durante i tornei dedicati agli iscritti il quarto livello renegade vi dà anche la possibilità oltre ovviamente a tutti i vantaggi che già ho elencato di chiedermi di fare un sondaggio quindi di chiedere l'opinione degli iscritti su determinati argomenti il quinto livello e ultimo che è quello più completo che ho deciso di chiamare joker vi dà inoltre la possibilità di fare videochiamata con me o di chiedermi di fare una collaborazione questi sono i cinque livelli che ho deciso di creare per gli iscritti per fare in modo che voi possiate ovviamente usufruire di vantaggi e per far sì che possa anche crescere il canale io ragazzi spero che voi vogliate abbonarvi in modo tale a far crescere il canale così come le possibilità di creare dei tornei e di assegnare dei premi a tutti voi ci vediamo in game ci vediamo in live vi saluto un abbraccio a presto